È arrivato in Irlanda, per la precisione nel famoso aeroporto di Dublino, sua santità Papa Francesco. È atterrato all'aeroporto internazionale e è stato accolto dalle autorità internazionali ed ecclesiastiche del paese. Che cosa avrebbe detto in prima battuta il buon Papa Francesco? Le seguenti parole. A me piace stare con le famiglie. Il Pontefice quindi avrebbe ricordato che la seconda festa del mondo della famiglia, dopo quella di Filadelfia, sarebbe proprio la sua, la sua seconda festa mondiale. E poi avrebbe aggiunto, torno in Irlanda dopo ben 38 anni di tempo. Sono stato tre mesi per praticare l'inglese. Ho un ricordo bello, tocca il cuore. E ovviamente ha ringraziato i giornalisti, grazie della compagnia di venire del vostro lavoro. Bene, complimenti vivissimi al nostro amato Papa, Papa Francesco, perché come sempre è un Papa buono, è un Papa nobile di cuore e dà la grande bontà di animo, di spirito. Grazie, un caro saluto, al prossimo video, iscrivetevi, commentate e al prossimo video da narratore italiano.